Allora abbiamo ripreso la linea attraverso Skype con Lello Belmonte, allora Lello mi sembra una bella esperienza da seguire e soprattutto con l'affiancamento del Sinagi, tu hai sentito Manuela e quindi c'è un'adesione ufficiale, la radio può mettere diciamo di suo l'idea di innanzitutto propagare questo podcast nella rete, farlo conoscere perché le cose che ha detto Stefano sono molto importanti e soprattutto chiariscono alcuni aspetti che potrebbero rimanere in seconda linea, quale appunto il fatto che si tratta di un evento che non crea qualcosa di culturale, fa qualcosa di culturale che è un po' diverso, non credi? Indubbiamente, indubbiamente, infatti sottolineo quello che Stefano ha sconfitto la paura, la paura di creare qualcosa, come ha detto lui più di una volta questa sorpresa da parte di questi cittadini che hanno detto ma esiste qualcosa, possiamo parlarne, siamo noi parte integrante di quest'evento, siamo noi l'evento e di conseguenza non è per essere ripetitivo ma l'edicola ci sta, ci sta l'edicola come ogni commerciante, ogni persona che offre prodotti all'interno del proprio quartiere ci sta, è l'edicola più di tutte, più di tutte perché tutti i giorni è lì in mezzo alla strada e vediamo passare tantissima gente, perché non fermarci? Tante volte ci fermiamo, parliamo del più o del meno e questo sostanzialmente è questo, è questo che facciamo, che tutti i giorni fanno gli edicolanti con lo scambiare due parole con i propri clienti e però un po' più costruito, fatto un po' meglio, raccontando il quartiere, la propria storia, la storia di chi vuole raccontare le storie. Non voglio polemizzare perché ovviamente qualcuno giustamente dice ma noi dobbiamo vivere e quindi devono entrare i soldi, ma non credo che ci siano poi tante altre alternative, con questo non io stia dicendo che nella disperazione siamo disposti a fare tutto, ci mancherebbe altro, però questo ci sta, non vedo controindicazioni, ripeto Cerea, la festa del fumetto e del libro illustrato che ci sarà domenica 14 maggio in via Antonio Cecchi, sempre un evento che fa parte di questo festival, ma perché non ci sta l'edicola? L'edicola non vende il fumetto, agli edicolanti non interessa il fumetto o il libro illustrato, di cosa stiamo parlando? Non lo so, scusate lo sfogo, magari diciamo un po'. No, no, ma è così, anche questo, io ho insistito per creare questo collegamento e ne faremo un'altra prossima settimana, proprio perché diventa un elemento che aiuta a cambiare il punto di vista sulla propria attività, parliamo naturalmente di edicole, aiuta a favorire questa transizione tra un vecchio modo di intendere mestiere di edicolante, di giornalaio a un nuovo modo, cioè quello di riconoscersi, di vedersi come un ganglio importante della vita culturale, ma soprattutto sociale del quartiere e iniziative come queste di Torino un po' ce lo raccontano. Tra l'altro volevo aggiungere una cosa, è una curiosità perché è uscito fuori questo tema, è uscito fuori in un collegamento con un giovane di Perugia che ha riaperto una edicola ormai chiusa da anni, rilevando la licenza e l'ha in qualche modo riadattata a nuovi bisogni di marketing, come si dice appunto in linguaggio moderno. Detto in poche parole, ne ha fatto un punto di riferimento culturale con riviste, periodici, ma anche giornali alternativi che vengono da tutto il mondo, cose quasi introvabili nella normale catena della distribuzione. Ci sarebbe da aprire un ragionamento sulla distribuzione, poi però mi telefonano gli amici della distribuzione e dicono che ce l'ho sempre con loro, un po' ce l'ho con loro, ma questo è un altro discorso. Allora, che dire rispetto a queste situazioni? Che proprio le edicole chiuse potrebbero in qualche modo essere riattivate da questo movimento, anche per brevi periodi. Mi spiego, adesso andrete a vedere le vostre cose lì a Torino con l'organizzazione di questo festival della cultura da basso per vedere come coinvolgere le edicole, ma insomma parlando proprio di proposte operative, si potrebbe proprio porre come obiettivo quello delle riaperture, magari attraverso un accordo col municipio, col comune, per un periodo temporaneo di edicole chiuse, in modo da riaccendere i fari e non far passare l'idea, è questa la cosa più importante, l'idea nel senso comune che le edicole ormai sono un ferro vecchio del Novecento e che quindi sono destinate a una lenta morte. Questo non è vero. Diciamo che il lavoro parte con l'esatto contrario, si spera di non farle chiudere le edicole. Certo, certo, ma laddove ahimè sono già chiuse si potrebbe appunto fare qualcosa di concreto per riaprirle. Diciamo, io ho in testa proprio un'edicola a gestione cooperativa che sia un punto di riferimento per il quartiere, è chiaro, cioè che venda sì carta stampata, ma ci sia proprio un luogo di ritrovo istituzionale, proprio perché gestito magari da una cooperativa nata da questa esperienza della festa di cultura da basso, una cooperativa appunto tra gli abitanti stessi, non serve a creare un lucro o magari lo creerà soltanto per chi è addetto tutti i giorni ad aprire e chiudere, oppure si potrebbe pensare a una gestione a rotazione, non serve a creare un lucro in questo senso, serve a creare un punto di riferimento e mettere l'edicola al centro di questa rete, proprio per dire e ribadire che l'edicole hanno una funzione dentro le piccole comunità di quartiere. Sì, perfettamente d'accordo, un discorso già sentito, già fatto e condivisibile al 100%, io ribadisco solo che il sinaggi incontrerà sicuramente Stefano, non ci sono problemi a trovare un punto di un'edicola per ogni quartiere o per ogni pezzettino di territorio che si decide di raccontare, quindi il sinaggi si impegnerà a fare questo, ripeto, è un concetto molto semplice, l'edicolante fa più di 360 eventi all'anno di cultura, che sostanzialmente non è un'azienda che ti sta chiedendo di diversificare, quindi di vendere un altro prodotto, offrire un altro servizio. Questo festival ti chiede di fare l'edicolante, quindi è per quello che io non ci vedo controindicazioni e conciò non è che io stia dicendo che durante il festival quei commercianti abbiano avuto degli incassi maggiorati, questo non lo so, però hai avvicinato sicuramente l'utenza che è la tua utenza, stiamo parlando di persone che vivono nel quartiere, che abitano vicino all'edicola e che di conseguenza conoscono l'edicola di già, ma li fai semplicemente avvicinare, li vai a prendere e gli ricordi che tu sei lì, magari c'è qualcuno che non sa che tu stia offrendo un servizio postale piuttosto che tu abbia i gratte vinci, adesso dico così per banalizzare, ma perché no? Perché no? Ripeto per la mia volta, perché no? Perché io non vedo nulla, non c'è nessuna controindicazione, ecco perché il Sinaggi ci sarà, parlerà con Stefano Di Polito e questa cosa si farà, punto. Bene, bene, allora vedremo, intanto c'è stata parecchia discussione sulla chat, vedo che tu l'hai seguita, io vorrei dire a Rodolfo Ferrone, che dice ma parlare dei problemi reali attuali no, ne parliamo tutti i giorni, ne parliamo tutti i giorni caro Rodolfo e sinceramente il tuo atteggiamento mi sembra un po' strano, perché poi quando si tratta di intervenire si ritirano tutti, cioè quando la radio lancia l'appello, c'è il microfono aperto, potete intervenire, fate arrivare, no, tutti grandi leoni da tastiera che sono pronti a sciolinare critiche di tutti i giorni, di tutti i tipi però non accettano il confronto, non accettano di venire qua, il confronto dal vivo, come abbiamo fatto stamattina con Stefano Di Polito, no, perché nel confronto dal vivo qual è la piccola differenza? Vorrei ricordarglielo al signor Rodolfo che bisogna portare degli argomenti, parlare, confrontarsi, tra l'altro appunto la radio ha detto più volte, c'è un microfono aperto, venite a parlare dei problemi attuali, diamo spazio a quella che è la protesta giusta degli edicolanti, la radio serve sostanzialmente a questo, c'è stata una fuga generale, io lo ripeto, quello a cui ho dovuto assistere, questa settimana con questi grandissimi leoni da tastiera degli edicolanti di Perugia è stato proprio il massimo, per cui si sono rifiutati proprio in massa di intervenire, lo dico senza problemi, senza infingimenti, non è stato certo un punto positivo per la rossa radio, ma c'è un punto in più, vorrei dirlo ai perugini, così a tanti altri che non perdono occasione di lanciare critiche appunto da dietro alla tastiera, la radio va avanti signori miei, perché la radio ha un progetto importante da mettere in piazza e poi al momento giusto evidentemente ci sarà da gioire e da festeggiare con chi ha partecipato a questa cosa, gli altri che sono abituati a fare altro, continuassero a farlo dietro la loro tastiera, nonostante appunto tutti gli inviti ad intervenire. Bene, allora grazie, scusa Lello ma era dovuto perché poi vai a leggere in chat delle assurdità vere per cui noi non parliamo dei problemi reali, ma dove è questa cosa? Che continuiamo a invitare tutti gli edicolanti ad intervenire, a dire la loro, siamo sempre in contatto con i sindacalisti, andiamo a sentire gli esperti sull'editoria, diamo i dati, i notiziari, dov'è questa cosa? Cioè portatemi una cosa concreta. Sì, no, ma ci sta, lo sfogo ci sta, in democrazia ognuno può esprimere ciò che vuole. Ah vabbè, ho capito, ma non questo atteggiamento scorretto, ma per carità, cioè. Molte volte anche distruttivo. Ma che vuol dire? Ma venite a parlarne direttamente, ma di che cosa avete paura? No, ma va bene, io capisco il tuo sfogo, è solo scusami se mi permetto, non che io voglio abbilanciare, però ci sta anche lo sfogo di chi non la pensa come te. Ma, no, Lello, scusami, no, no, perdonami, perdonami, Lello, perdona, il problema, io non sto chiudendo a chi non la pensa come me, io sto dicendo, la radio è una piazza da utilizzare per tutti. Quindi io per fare il salotto come dice il signor Rodolfo, mi alzo la mattina alle sei e mezza, perché poi le cose non è che si improvvisano, eh. No, 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 come l'edicolante fa il suo lavoro, tu fai il tuo, così ci mancherebbe altro, cioè ognuno si suda, si suda la pagnotta, nulla di togliere, tanti, tanto di cappello ci mancherebbe. Va bene, allora grazie, Lello, di questo intervento, un'altra occasione per… Comunque dobbiamo sconfiggere la paura, dobbiamo fare rete. Ecco, su questo ci sarà sempre la radio, perché appunto, l'ho detto, il progetto della radio va avanti e oggi appunto è stata un'altra occasione per ribadirne l'importanza e nonostante tutto e, devo dire, nonostante tutti. Grazie, Lello, a presto. Non tutti, tanti. Tanti, alcuni. Buona giornata, grazie. Grazie, ciao, ciao.